Siamo a mezza gara Andiamo a vedere i tempi 2344 Ciao ragazzi ci vediamo domani E si torna Partiti questa volta in maniera regolare In questa battaglia numero 2 IDK, Scandiclap Cassano A battagliare sul livello blu Siamo al mutile pubblica Mutile niente per questi partenti Passaggio E la tenda numero unico Position Set Capito di maniera regolare Capito Passaggio Passaggio Di metà gara Un uomo Un uomo Siamo a mezza gara Un uomo Guarda i vecchi Per l'altro del numero 47 Un uomo 5 919,4 partiti, sono nuovi, maresi, 212, un lavoro dell'apparatore per evitare la calma a questo l'apparatore per evitare l'apparatore per evitare l'apparatore per evitare la calma a questo passaggio finale